Siamo in dieci Ma Che cosa nove? Ah! Siamo in nove! Porca cutretto Sì, però la fattoria finirà in safe, credo Ok, quindi siamo contro un team Aspetta Forse uno è morto Forse Ma che cavolo ho fatto? Ma dai, Raffa Però c'è Metti Non ce ne so Sì Non c'è nessuno Eh, infatti Stai cercando di là GG Bro Ah, ma se ne c'è spuglio Ok, veniamo anche noi nel cespuglio Che è una statua di paio Questo Questo è positivo Se è così No, c'è uno scar C'è uno scar No, questo, ecco Sì Ho fatto Ho fatto la clip Ho fatto La quinta La quinta partita del giorno C'è la quinta La quinta vittoria del giorno Ho fatto la clip Ho fatto la clip